Siamo nel dopogara di questa importante sfida per il campionato di Serie C2, il Real Castelfontana subisce la prima sconfitta dopo nove giornate con il portiere Daniele Barba. Sapevate che comunque sarebbe stata una partita difficile ma non nelle condizioni come si è giocata? Sì certo, sapevamo che era una partita difficile perché comunque sia il minturno ha fatto quando ha giocato l'arte partita e bene o male con le squadre che abbiamo incontrato noi ha vinto il stesso risultato e quindi sapevamo che era una squadra abbastanza blasonata e poi venivamo qua a scontro diretto. Ecco Barba però non compromette nulla questa sconfitta perché come abbiamo, come ho già detto, nove sono le vittorie, erano otto i punti di stacco anche se loro devono recuperare una gara però rimane sempre questo lungo divario tra voi e voi. Beh lungo adesso non più perché poi alla fine voi recuperate la partita col Velletri e in caso di vittoria ci venite a due punti quindi poi alla fine dobbiamo essere bravi noi, essere concentrati. Adesso in poi e non sbagliare ogni partita che che verrà e purtroppo eh siamo un po' delusi del scontro diretto purtroppo se avessimo vinto qui e andavamo a più otto sarebbe stata una bella prova di forza per il campionato diciamo. Ecco se c'è qualcosa che non ha funzionato ammesso che qualcosa oggi in voi non abbia funzionato cos'è? Beh sicuramente la testa, ci è mancata la testa, ci siamo nervositi subito purtroppo anche l'arbitro ha sbagliato qualche qualche giudizio però fa parte del gioco purtroppo e non siamo stati bravi a essere, a rimanere calmi, concentrati e purtroppo è andata così. Moreira, Tiago però per tutti più conosciuto come Moreira ancora una prova incisiva in questo inizio di stagione con il minturno vi premia battendo la capolista. Sì, ciao a tutti, noi abbiamo allenato bene 4-5 settimane fa, siamo tutti insieme come devo dire ho lasciato fisico e ha giocato un po' con intelligenza e io penso che se noi andiamo così avanti non c'è per nessuno, ti è sicuro io perché siamo una squadra giovane però siamo intelligenti e loro pensano che vengono qua, tipo hanno detto che vengono qua per chiudere il campionato ma ancora non è chiuso il campionato. Noi siamo qua, c'è una parola a dire e piano a piano vengono a far vedere che siamo la squadra più forte che ci sono, ti assicuro io. Ecco Moreira, però andiamo un po' ad analizzare la partita. Primo tempo veramente eccellente, poi però nel secondo tempo sembrava un po' sedere entrato in campo un po' contratti. Abbiamo lasciato giocare e chi lascia giocare prende gol subito. E questo sport poi non devi permettere queste cose? E' così che ho imparato, chi lascia giocare non te la palla prende gol, noi abbiamo preso tre goli, abbiamo sbagliato altri tanti nel secondo tempo, però loro è stato migliore nel secondo tempo, noi siamo migliori nel primo tempo. Meno male che loro hanno sbagliato, noi abbiamo segnato cinque volte le loro quattro, abbiamo vinto tre punti perfetti che rimane qua. Però la partita è così, la storia della partita, non si gioca meglio, si gioca peggio, però io voglio vincere a tutto il costo, non voglio sapere più. Grazie a Tiago Pareda, intanto ci ha raggiunto il presidente della società, Daniele Di Ciaccio, buonasera. Ci ha raggiunto anche perché è giusto far annunciare, c'è proprio una chicca dell'ultima ora, si aggiungerà un giocatore tra di voi proprio nelle prossime ore. Sì, sì, peccato che non l'abbiamo fatto venire tre giorni fa, il testamento è tutto ok, abbiamo ufficializzato da Silva Faria, un portoghese che giocava in Serie A in Portogallo, pertanto ci darà una grossa mano, non è escluso qualche altro colpo di mercato, ma sicuramente tra un paio di giorni l'annunceremo. Adesso non lo possiamo ancora annunciare, ma ufficiosamente diciamo già l'abbiamo preso. Quindi due giocatori di alto livello che ci daranno questa spinta finale per il giro di ritorno, insomma. Ecco, Presidente, non era comunque questa la partita che vi aveva fatto capire, o meglio aveva fatto capire a più parti che voi eravate presenti e quei punti di divario dalla capolista potevano essere recuperati? Beh, io l'ho sempre detto, il divario che si è creato è stata soltanto una mancanza nostra perché abbiamo allestito sempre questo roster in ritardo. La squadra è di qualità, ci ho sempre creduto, l'ho dichiarato anche in settimana. Io sapevo che la squadra poteva rispondere oggi con una vittoria, l'ha fatto benissimo contro una squadra degna, veramente complimenti, perché è una squadra coracea, il Castelfontana. Quindi siamo contenti, le decisioni arbitrali purtroppo non le discuto perché a volte ci sono arbitri che vanno contro, a volte ci vanno a favore. Oggi non si può dire, dipende, insomma. Quindi alla fine diciamo che ce la siamo meritata oggi la vittoria. Peccato quel calo finale, insomma, giustamente, avendo una rosa risicata, è giusto. Non avendo i cambi adatti, il calo finale ci sta tutto. Però i ragazzi non hanno mollato e quindi sono veramente contento.